14 novembre 1948 Nasce Carlo, principe del Galles ed erede al trono del Regno Unito A 33 anni, il 29 luglio 1981, sposa Diana Spencer che gli dà due figli, William e Harry, da cui divorzia nel 1992 I problemi del matrimonio alimentano per anni le prime pagine dei giornali scandalistici Nel 2005, dopo 30 anni d'amore clandestino, sposa Camilla Parker Bowles